Rieccoci live, sono le 7.42, siete sempre in diretta su Nuvola TV per chi naturalmente ci segue di buon mattino, venerdì 22 novembre, abbiamo archiviato la rassegna stampa locale, passiamo adesso a dare un'occhiata ai giornali nazionali e partiamo come da consuetudine con il Corriere della Sera che apre con Netanyahu, va arrestato, richiesta della Corte Penale internazionale, Crosetto la rispetteremo, Cauto Tajani, Israele parla di giudizi antisemiti. Poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco, a sinistra non solo America, un mondo sempre più fazioso, ci sono in alto un paio di notizie di sport e di spettacolo, la prima l'Italia va in semifinale con Sinner e Berrettini, c'è stato ovviamente un po' di brivido perché ieri l'Italia ha perso in maniera se vogliamo anche un po' clamorosa, è il primo singolare con Musetti che è stato praticamente asfaltato da Serundolo, poi la vittoria di Sinner contro Baez e alla fine il doppio italiano che ci ha consentito di arrivare in semifinale e di continuare a sperare di poter difendere l'insalatiera conquistata lo scorso anno. Ritorniamo sul Corriere perché poi a destra c'è Giovanotti riparto con la musica, il singolo e poi l'album. Ancora in basso, le nuove armi e gli scenari, cosa può cedere Zelensky? Si chiede Lorenzo Cremonesi, a destra Gaetz si ritira, primo inciampo per Trump sulla giustizia che perde un tassello del suo scacchiere. L'opera di Cattelan acquistata da Sam, il re delle criptovalute, questa è una notizia davvero molto curiosa, la banana sul muro venduta per 6,2 milioni e c'è Vincenzo Trione che commenta, vedete se l'effetto mediatico è sinonimo di arte. Il PD vota con il centrodestra, la Camera si al Salva Milano per dare il via libera a 150 costruzioni, questa tra l'altro è una vicenda che ha fatto molto discutere sulla nostra isola perché erano stati presentati una serie di emendamenti, lo ricorderete, per provare a quantomeno inserire una gradualità nelle demolizioni anche in Campania e dunque ad Ischia che però non è stata approvata, non è stata nemmeno presa in considerazione e questo chiaramente ha fatto intendere a molti che ci fosse una sorta di carattere discriminatorio al quale però siamo abituati. Due facce in prima pagina, la prima a sinistra è quella di Netanyahu, mandato d'arresto, la Corte dell'AIA, crimini contro l'umanità anche per Gallani, il Premier, giudici antisemiti, sarà un nuovo processo Dreyfus. La minaccia di Putin, a destra è guerra mondiale, discorso del Presidente all'esercito, colpiremo chi arma Kiev e Mosca lancia per la prima volta il supermissile sull'Ucraina. Ovviamente due vicende parallele che vengono commentate rispettivamente da Lucio Caracciolo e da Gianluca Di Feo che per quanto riguarda Netanyahu scrive quelle accuse pesantissime su Putin, il titolo abbastanza eloquente è il salto di qualità nei piani militari. Scendendo c'è la notizia, la mia banana mangiata dal mercato, la banana visto sul muro venduta per 6,2 milioni di euro, poi Carlo Galli che parla di Conte della direzione obbligata dei 5 Stelle e poi a destra il tennis, i valori e la forza delle donne. Questa era la prima pagina di Repubblica, ovviamente apre con lo stesso tenore anche la stampa che scrive arrestate Netanyahu, ira di Israele, Putin usa missili balistici a lungo raggio, il conflitto è globale, Zelensky non si può morire per la Crimea, il commento della stampa sulla vicenda legata a Netanyahu, eccolo qua lo vedete nel pezzo di Elena Lowenthal, accuse discutibili, guerra più complessa, poi ancora più in basso si parla degli Stati Uniti, la coppia Trump-Musk è la forza dell'ottimismo. A centro pagina panchina avvelenata, Annalisa Cuzzocrea parla di manipolazione sovranista e si legge al Senato la russa pretende il tricolore sul simbolo della lotta alle violenze contro le donne. Poi ancora inchieste ed analisi a destra dall'auto ai frigoriferi, la crisi dell'industria che continua evidentemente a patire in questo settore e poi l'analisi di Franco Bernabè se Roma e Bruxelles non hanno un piano. C'è poi l'intervista a Garmin, la CT delle tenniste azzurre che dice patriarcato Italia indietro. Fin qui i principali quotidiani italiani, ce ne andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del Fatto Quotidiano, eccola qua, ve la stiamo mostrando in questo momento, che in alto scrive criminali di guerra, ordine d'arresto per Bibie Gallant, poi scendendo invece apre con 5 stelle al vuoto i quesiti della Costituente, poi il rischia tutto con il volto sorridente dell'ex Premier Conte, temi e alleanze. Da ieri gli 89 mila iscritti decidono il futuro del Movimento 5 Stelle, di Conte, di Grillo e poi nome, simbolo, regole e programmi e poi l'intervista alla vicepresidente Taverna. Invitare all'astenzione non è da 5 stelle, Giuseppe, inteso per Giuseppe Conte, dice ce la farà. Abbiamo visto anche il Fatto Quotidiano, andiamo a dare un'occhiata velocissima alla verità che sceglie un'apertura alternativa ve la facciamo vedere, flop dello sciopero dei medici, 1%, i sindacati avevano parlato di punte dell'85, la storia è completamente diversa e sgonfia l'entusiasmo della segretaria Dem, la quale vorrebbe usare contro la Meloni il sistema sanitario messo in ginocchio dai tagli miliardari operati dai governi a guida PD. E poi c'è la notizia ovviamente che riprendono tutti i quotidiani, Laia, crimini di guerra, arrestate, Netanyahu, Crosetto, dice obbediremo. Ancora l'auto elettrica non va, ma per mollarla le case vogliono soldi, le big al bivio, meglio insistere sul grino, tornare al termico. Ecco le loro risposte accompagnate da una costante, chiedono cioè nuovi sussidi. Allora è venerdì, si avvicina anche il weekend sportivo e allora andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani, partiamo dalla gazzetta dello sport che apre in alto ovviamente con Ibra, la prima di Ibra fuori dal campo, ve la do io Milan Juve, domani la super sfida che ha fatto la storia della Serie A e domani oggettivamente inizia un weekend davvero di grande calcio. Poi l'apertura è dedicata alla Coppa Davis, troppo forti, Italia in semifinale con Sinner e Berrettini che conquistano, ecco qui, Yannick guida la rimonta con l'Argentina, decide il doppio, domani c'è l'Australia. Risaliamo un attimino perché a destra si parla, come vedete, verso Napoli-Roma, duello Lukaku-Dobbic, il focus è sui due centravanti, Conte insiste col belga, l'Ucraino a tutti i costi per l'esordio di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Poi, ausilio al lavoro, punta deciso, il talento marocchino, siamo passati al Corriere dello Sport che invece punta sul calcio-mercato, assalto a Belaian, regista del Verone. Domani al Bente Godi il ventenne play è l'osservato speciale dei campioni d'Italia, può diventare l'erede del turco Cialanoglu. Inzaghi lancia Taremi, resta fuori Lautaro Martinez. Mercato anche a giugno, la nuova iniziativa, la finestra decisa dalla federazione italiana gioco-calcio e poi a destra, vedete, Sinner e Berrettini, Kesiu, l'Italia è in semifinale. E adesso andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani campani, partiamo dal mattino di Napoli che ovviamente in taglio alto guarda alla lotta al vertice, 6 stelle per lo scudetto e Kvara, Kvara Sveila accende la sfida con la Roma. A destra Napoli i tesori da rilanciare, la sfida del turismo di qualità contro il dominio del fast food. Abbiamo poi l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, senza l'Italia in Europa non si fa niente, il peso della Meloni è il ruolo di fitto e poi in prima pagina la notizia che insomma è un po' su tutti i giornali, mandato dal resto internazionale per Netanyahu, crimini di guerra a Gaza, Putin minaccia, pronti a colpire chi arma Kiev. Cambio di paradigma, una ventata d'ottimismo, quella che ogni tanto ormai ci propone il quotidiano napoletano, il rapporto dell'osservatorio SRM, varati progetti per i prossimi tre anni Sud, sette imprese su dieci investono. Dai fondi di coesione alla Zessunica, lo sprint per il rilancio del mezzogiorno con il metodo fitto e poi ancora il genio dei calcoli torna a Napoli, si parla del direttore del lavoratorio Quasar, qui il futuro dell'intelligenza artificiale. Dal mattino andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Roma che si riprende sempre, parla sempre ormai di Napoli-Ruma che sarà da qui a domenica un light motive, Napoli l'obiettivo di Conte è riprendersi il Maradona. Attenzione però a questa notizia che troviamo in prima pagina, cresce l'usura a Napoli di più, la città è prima al sud per numero di casi, commercianti e artigiani sono le categorie più a rischio. Prima di chiudere con la rassegna stampa c'è ancora tempo per vedere le prime pagine del Corriere del Mezzogiorno e della Repubblica Napoli, eccolo qua il Corriere del Mezzogiorno che apre con la politica frecciate di De Luca a Manfredi. Politica chiesta una stagione di mobilitazione, mi aspetto una battaglia contro i tanti tagli fatti ai comuni e dunque il governatore che spara dritto sul neopresidente dell'Anci dicendo spero che non si attenui l'impegno per Napoli. A destra la condanna del tribunale per Stellantis di Pomigliano condotta antisindacale scrive il Corriere del Mezzogiorno e poi la richiesta del PM non si è mai scusato ergastolo per il killer di Francesco Pio Maimone. Dal Corriere del Mezzogiorno prima di chiudere andiamo a Repubblica Napoli che apre invece con una notizia diversa, capolavoro incurabili facendo riferimento ai beni culturali, restaurata la farmacia 100 milioni per l'ospedale, il presidente della regione inaugura il sito, riaprirà al pubblico sul prenotazione dopo il crollo del 2019, progetto di riqualificazione per l'intero complesso, il processo per il deritto Maimone, omicidio degli chalet, la procura chiede l'ergastolo, Valda sparò a un innocente. L'ultima verità di ridosso, Cioffi uccise Vassallo, qui il riferimento è sull'indagine relativa all'omicidio del sindaco pescatore di Pollica, avvenuto 14 anni fa per il quale proprio di recente c'è stata una svolta giudiziaria con 4 arresti. È tutto per la nostra rassegna stampa, adesso ritorniamo al meteo, lo andiamo però a vedere su Scala Nazionale. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un fronte freddo dal nord atlantico raggiungerà il cuore del Mediterraneo con instabilità sull'Italia, venti freddi però anche a nord delle Alpi con ancora instabilità e delle nevicate fino in pianura. Poi da sabato ritornerà l'alta pressione, si chiuderanno i rubinetti dell'aria molto fredda dalle isole Svalbard nel cuore dell'Europa e tornerà il più mite atlantico con temperature graduale incremento. Sull'Italia però è una giornata di venerdì instabile, medio adriatico e sud, al nord invece torna il bel tempo, ce lo conferma questa grafica con il sole sull'Italia settentrionale e la Toscana, ancora instabilità sulle restanti zone del centro in mattinata, poi migliora, e poi il fronte che interesserà le regioni medionali con piogge anche di temporali. La tramontana protagonista sia sull'Adriatico ma anche sul Tirreno, proprio il Tirreno sarà agitato. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo. E adesso prima di salutarci, spazio al Santo del Giorno, venerdì 22 novembre, Santa Cecilia, quindi auguri a tutte coloro che si chiamano Cecilia, anche da parte della redazione di Nuvola TV e poi la pillola. Eccola qua, quotidiana, il cosiddetto proverbio del giorno, viviamo in un mondo materiale ma poi quello che realmente cerchiamo non si può comprare. Non sappiamo dire a questo punto se meno male o peccato, però ognuno ne tragga le conclusioni che meglio crede. Vi ricordo gli appuntamenti in palinsesto nel fine settimana, venerdì 22 novembre alle 21 e alle 23. Spazio con la nuova puntata di ultimo round che si occupa dell'isola e della mobilità alternativa con ospiti in studio, commenti, immagini, servizi. Sabato la nuova puntata di tempo supplementare con Salvatore Serpico, avvocato e consigliere comunale di Forio. Ancora sabato pomeriggio alle 16 per il calcio a 5, la diretta di Senise Virtus Libera e poi sabato sera alle 21 e 15 la gara integrale in differita tra Real Forio e Portici, valevole per il campionato di eccellenze. Poi sui nostri canali social e sul nostro portale quello che accade sull'isola H24. Buon fine settimana a tutti, ci rivediamo lunedì con Nuvola Press puntuali alle 7 e 30. Caffè e giornali. Arrivederci. Grazie a tutti.